Terremoto al comune di Foggia, Palazzo di Città, arrivano gli agenti della squadra mobile per notificare due delle tre ordinanze di custodia cautelare per i reati di concussione, tentata concussione all'indirizzo del dirigente del settore lavori pubblici e del SUAP, sportello unico per le attività produttive del comune di Foggia, Fernando Biagini, 52 anni, e ad un consigliere comunale eletto in una lista civica Massimo Laccetti, di 43 anni. Con loro in manette anche un imprenditore di 46 anni, Adriano Bruno, Biagini e Laccetti sono in carcere, Bruno ha i domiciliari. Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal Geple del Tribunale di Foggia su richiesta della locale procura della Repubblica. Secondo l'accusa, i tre arrestati con ruoli differenti, Biagini nelle sue funzioni di dirigente comunale e gli altri due quali intermediari, avrebbero costretto un imprenditore edile locale, che è stato anche vittima di intimidazioni comunque non contestate nel provvedimento, a versare una tangente di 80.000 euro in contanti per chiudere il contratto per la realizzazione di un immobile da adibire a sede di uffici giudiziari. La tangente sarebbe stata pagata in tre tranche di 50.000 euro, 5.000 euro e 25.000 euro. Lo stesso imprenditore sarebbe stato vittima di un tentativo di concussione. I tre arrestati in questo caso avrebbero cercato di costringerlo a pagare 20.000 euro in contanti per sbloccare un'istanza presentata dall'imprenditore per ottenere l'autorizzazione e realizzare parcheggi in un'area comunale adiacente all'immobile destinato ad uffici giudiziari.